Si è svolto giorno 13 febbraio presso il Policlinico Universitario l'incontro tra il magnifico rettore Franco Tomasello e il Consiglio di Facoltà di Maglicina dell'Ateneo Peloritano. Tra i punti all'ordine del giorno, un'attenzione particolare è stata riservata all'analisi e all'illustrazione delle modifiche al protocollo d'intesa tra università e regione. Dopo aver sottoposto all'attenzione dei presenti tutte le variazioni apportate nel corso dei precedenti tavoli tecnici tra l'assessore regionale Lagalla e i presidi degli Atenesi Siciliani di Medicina, il personale medico ha espresso alla presenza del magnifico il proprio punto di vista in merito alle eventuali modifiche da apportare ad alcuni articoli del protocollo. Tra questi l'articolo 5 sulle attività programmatiche e formative dell'università, l'articolo 9 sulla modalità di scelta del direttore generale dell'azienda, di cui, ha detto il rettore, è assolutamente necessario rispettare i tempi di nomina. Di particolare interesse è anche la lettura dell'articolo 13 riguardante l'attuale situazione del personale ospedaliero. Il rettore ha infine sottolineato la necessità di avviare un'attività di organizzazione dell'azienda sulla base delle direttive contenute nel documento, un dibattito aperto e costruttivo durante il quale Tomasello, di comune accordo con i presenti, ha preso noto degli ultimi correttivi da apportare in previsione dell'incontro di venerdì a Palermo con l'assessore Lagalla per la definitiva approvazione del documento. Grazie a tutti.